esistono scenari irraggiungibili dei quali non conosciamo l'esistenza mondi inesplorabili dal suolo terrestre riprese impensabili sogno di ogni operatore cinematografico tutto questo diventa realtà con i nostri droni in volo realizziamo riprese incredibili in ogni scenario impeccabili video editing personalizza la tua vacanza la tua attività il tuo evento con un video di impatto cinematografico il mondo visto dall'alto ha un effetto straordinario ora basta poco per toccare il cielo visita iscriviti e contattaci sul nostro canale youtube grazie a tutti